Popolo di internet, ben ritrovati oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti o sono uomo che sapeva troppo, per gli amici uomo sono in una location inusuale ma anche se sono fuori casa non potevo non parlare del nuovo trailer di Deadpool e Wolverine con sotto Like a Prayer di Madonna, nessuno si aspettava, Like a Prayer di Madonna invece è arrivata allora, allora, cominciamo, cominciamo, non mostrerò il trailer a schermo, non ce la faccio, non ci riesco però mi ricordo un po', mi sono segnato un po' di cose, me le sono scritte qua quindi dobbiamo assolutamente parlarne il trailer si apre con un bar dove c'è Wolverine, un Wolverine, sappiamo il multiverso, i Wolverine sono tanti che sta bevendo, si sta ubriacando in una scena molto simile a me è parso a quella di X-Men all'inizio quando tra l'altro Magneto e Xavier andavano a cercare di reclutarlo e lui giustamente li mandava a quel paese e chi viene a reclutarlo stavolta, non è lo stesso bar, però il mood è più o meno quello beh arriva Deadpool, arriva Deadpool che tra l'altro un po' lo minaccia anche, gli tira fuori la pistola la pistola con su scritto fra l'altro sorridi e aspetta il flash e tra l'altro Wolverine sorride, non ha paura evidentemente di un proiettile in testa perché è Wolverine tra l'altro Wolverine che minaccia Wade tirando fuori gli artigli ma molto molto lentamente e addirittura Deadpool dice ah l'alcol ti tiene a freno gli artigli, te li ammoscia però ecco, sapendo che insomma di fatto Wolverine non può venire preso dall'alcol cioè ne serve veramente veramente tanto perché possa ubriacarsi perché il suo fattore di rigenerazione lo aiuta anche a non alcolizzarsi credo che gli artigli non escano forse per un trauma forse non riesce più a sguainarli come una volta infatti scopriamo che è un Wolverine che insomma ha un passato non proprio bellissimo pare che abbia lasciato morire tutto il suo mondo comunque tutto il suo mondo, tutti i suoi amici, tutti i mutanti tutti gli eroi del mondo di questo Wolverine sono andati e persi infatti vediamo fra l'altro questo campo verde con lui che urla, dice qualcosa e una serie di enormi lapidi di lato insomma ok è un Wolverine che ha perso tutto simile al Wolverine di Logan del film Logan là però era stata colpa sua probabilmente così sembrava lui Xavier insomma c'era un po' questa roba di Logan nel Logan originale a fumetti lui era stato manipolato mentalmente per ucciderli tutti eccetera eccetera però non mi sembra sia quel Logan lì non mi sembra neanche che sia il Logan di Johnny di un futuro passato perché comunque gli avrebbero messo la giacchetta non mi sembra il riferimento sia quello di Genosha Genosha è l'isola abitata dai mutanti che a un certo punto Cassandra Nova di cui parleremo fra poco aveva distrutto provocando migliaia di morti con un attacco delle sentinelle però potrebbe magari anche essere quello comunque insomma abbiamo un Wolverine che per colpa sua evidentemente un intero mondo è andato kaput quindi non è molto contento di tornare in azione nonostante Deadpool glielo dica tu sei l'X-Man per eccellenza tu sei quello più amato insomma sei tu sei tu intanto l'azione ogni tanto si sposta con lui vestito Wolverine con il suo costume giallo classico tra l'altro nella versione abbastanza simile a quella che indossava in Astonishing X-Men la serie di Joss Whedon a fumetti bellissima lo vediamo lui è Deadpool nella wasteland nel luogo tutto distrutto insomma con il luogo della Fox che viene ancora di più palesato quindi insomma un universo con pezzi di universi qua e là e a un certo punto Wolverine sembra accettare di partecipare perché Deadpool gli mostra una foto dei suoi amici e gli dice degli amici di Deadpool gli dice io ho perso tutto ma tu sei bravo a salvare no? tu sei bravo a salvare tutti invece io no quindi devi aiutarmi e lì parte l'Ecaprer di Madonna loro camminano in questo tra l'altro vicolo con dei negozi dietro negozi dietro che hanno due scritti interessanti in una c'è scritto Copperetz che è un tipo di serpente e fra l'altro è il nickname il nome di battaglia di un personaggio della Serpent Society della Marvel Serpent Society che vedremo almeno in parte in Capitale America Brave New World e quindi non credo qua centri forse è un Copperetz così un po' randomico però io ho letto Copperetz ho subito pensato al personaggio e su un'altra insegna c'è scritto me lo sono segnato Liefeld's Just Fit quindi solo i piedi di Liefeld Rob Liefeld è il creatore di Deadpool il creatore originale Deadpool originale e era famoso salito alla ribalta per il suo stile di disegno un po' esagerato anatomicamente poco regolare ma da molti amato e da molti odiato ma una cosa su cui tutti concordano è il fatto che Liefeld non sapesse disegnare i piedi disegnava tanti piccolini e li nascondeva a volte magari arrivava a Cable c'era del fumo e copriva i piedi lui non disegnava mai i piedi perché forse lui stesso era consapevole che non gli venissero bene e quindi Liefeld's Just Fit solo i piedi di Liefeld una battuta un po' cine fumettosa anzi solo fumettosa in questo caso e basta vabbè a un certo punto si vede Cassandra Nova quindi la vediamo anche di fronte il nemico di questo film o almeno uno dei nemici principali uscire tra l'altro da un'enorme testa di Ant-Man con anche scheletro sotto perché a me è parso di vedere proprio lo scheletro quindi c'è un grosso Ant-Man morto e lei lo usa come come rifugio tra l'altro un Giant-Man anzi perché Ant-Man ingigantito c'era in Old Man Logan nel fumetto c'era questo enorme Giant-Man nel deserto che era anche base di personaggi quindi c'è anche un po' di rimando a quello lei esce da questa roba tra l'altro ci sono dei personaggi a un certo punto due schieramenti con un sacco di personaggi io ci ho intravisto gente tipo Lady Deathstrike da Wolverine anzi da X-Men 2 quelli che sembravano Callisto Todd con la sua linguona dall'altra parte c'era un tizio vestito tutto rosso che potrebbe essere Azazel quello che nei vecchi film era ancora di fatto il padre di Nightcrawler probabilmente visto comunque in X-Men all'inizio c'è Colosso o almeno quello che sembra un colosso barbuto che quindi non è il colosso di Deadpool ma un altro colosso l'ha fatto più attori il personaggio e tra l'altro col multiverso è possibile ma ripeto magari non era lui a me sembrava quella striscia striscia rossa su manto nero non lo so Pyro forse Sebritut non lo so c'è uno un po' muscoloso non si capisce bene sono tutti molto lontani ma chiaramente fanno parte di un parterre di cameo che sicuramente vedremo anche di una bella rissona c'è tra l'altro il momento che mi è piaciuto molto Mad Max con questa macchina che trascina un carro dietro insomma il momento un po' Wasteland di Mad Max e Cassandra Nova Cassandra Nova che tra l'altro la vediamo anche combattere con Wolverine usa un po' la sua telecinesi per buttarlo qua e là mentre lui cerca di artigliarla lei lo ferma tra l'altro in maniera molto ironica con quei sorrisini quindi le hanno fatto comunque un po' il trattamento Deadpool perché nel ciclo di Morrison in cui lei compariva non era proprio così ironica tra l'altro dice anche questi uomini sono così scemi a un certo punto mentre beve il suo tè Cassandra Nova è interpretata da Emma Corrin ed è la gemella cattiva di Xavier ve la riassumo così ne ho già parlato un po' nella reaction del primo trailer comunque Cassandra Nova per farla veramente in soldoni è una sorta di gemella psichica di Xavier il suo doppio malvagio che secondo la leggenda degli sciar questi alieni che tanto abbiamo visto in X-Men 97 se state seguendo X-Men 97 questa specie di doppio che tutti noi abbiamo e che prima di nascere dobbiamo sconfiggere una roba del genere sul piano astrale e si chiama Moon Moon Dry questo doppio il Moon Moon Dry però di Xavier era così forte che è riuscito a uscire dal piano astrale e a darsi un corpo cioè Cassandra Nova quindi quando erano nella pancia Xavier e Cassandra si sono sfidati anche fisicamente Cassandra è morta ma il feto di Cassandra è finito nelle fogne per anni ha ribollito e dal liquame che era rimasto di quel feto è uscito fuori un corpo intero ed era Cassandra Nova non sto scherzando è successo veramente questo Grant Morrison è un po' pazzerello quando scrive le sue trame non credo avremo tutte queste bizzarrie ma sarà semplicemente una sorta di gemella cattiva di Xavier una variante femminile di Xavier insomma qualcosa è comunque potente perché sembra molto molto potente si vede Dog Pool finalmente vediamo Dog Pool in azione che lecca Deadpool quindi variante di Deadpool canina ce ne saranno parecchie a giudicare dagli art vedremo tanti Deadpool tante varianti Wolverine tra l'altro schifato da questa cosa mentre viene viene leccata e poi insomma accettando probabilmente di combattere con Deadpool al suono di e andiamo perché comunque tutto il trailer alterna a loro che parlano a loro che se le danno vediamo anche tra l'altro la TVA che viene menata da Deadpool in quel bosco quel bosco quello ghiacciato che già avevamo visto saltano in un portale anzi in un paio di portali sembra che vedono un portale davanti e saltano verso esso credo fosse fosse così portali però che sono quelli creati dallo Swing Ring dall'anello di Strange che usa anche Ned in Spider-Man No Way Home e che apre i portali quindi quando lo giri apre i portali ecco quindi è un portale magico ci sarà veramente Strange ci sarà Wong ci sarà qualcuno probabilmente sì perché veramente serve quell'anello lì però vedremo vedremo comunque saltano in questo portale non vediamo cosa c'è dentro il portale di solito quando aprono dei portali gli Swing Ring o come cavolo si chiamavano in italiano si vede cosa c'è dall'altra parte penso proprio adesso a Spider-Man No Way Home quando arrivano i Peter Parker alternativi si vede cosa c'è nella parte da dove stanno arrivando per dire qui no credo sia però un trucchetto del trailer magari nel portale si vede chiaramente dove stanno andando ma hanno voluto lasciare tutto bianco per evitare di spoilerarci insomma Marvel ogni tanto i trailer li modifica quindi saltano verso l'ignoto Deadpool Wolverine bello venire insieme venire ovviamente doppio senso sporcaccione tra l'altro tutto il trailer molto vulgare l'ho visto una volta in inglese e più volte in italiano poi per farne un po' questa analisi per chiacchierare quindi non ricordo se in effetti è così volgare anche in inglese a volte noi italiani involgariamo molto i doppiaggi e poi c'è la gag finale quindi con l'amica la vecchietta cieca di Deadpool che gli chiede tra l'altro se vuole della cocaina ma lui dice che no Feige ha detto che è off limits quindi battuta sulla Marvel Kevin Feige che dice puoi fare quello che vuoi ma la cocaina no anche se dopo iniziano a dire tutti i soprannomi con cui viene conosciuta non possiamo neanche chiamarla così no così no 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 il Deadpool dice hanno una lista intera di nomi alternativi per la cocaina che non possiamo utilizzare e lei alla fine fa ma anche pupazzo di neve no lo farei cioè mi piacerebbe farlo ma no quindi insomma battuta meta referenziale Deadpool del resto parla spesso appunto con il con lo spettatore non è consapevole di essere in un film e basta comunque trailer che mi ha mi ha gasato molto mi è piaciuto chiaramente visto tutto dalla parte più di Wolverine stavolta l'avevamo immaginato il primo trailer era dalla parte di Deadpool questo è dalla parte di Wolverine si vede anche il momento in cui lui arriva sopra Deadpool che per terra iniziano il combattimento quindi il finale del primo trailer sappiamo qualcosa di più Cassandra Ranova sembra essere effettivamente la villain del film magari ce ne saranno altri magari qualcosa di misterioso sbuccherà fuori però intanto ce la stanno presentando per adesso come villain principale sarà interessante capire qual è il suo scopo e perché fra l'altro serve Wolverine cioè Deadpool va a chiamare Wolverine per un motivo così di meme perché tu sei quello l'X-Man più famoso più forte o c'è un motivo per cui Deadpool cioè per cui Wolverine può servire e allo stesso modo in cui c'è un motivo per cui Deadpool viene chiamato dalla TVA e può servire ma Deadpool si ribella alla TVA e va a chiamare Wolverine per quello li stanno combattendo poi i membri della TVA o è la TVA stessa che gli dice vai a cercare qualcuno in questo caso Wolverine perché è proprio uno della TVA mi pare che dica ah questo Wolverine ha perso tutto quasi come dire non te lo consiglio insomma bisognerà capire bene la dinamica del reclutamento di Wolverine e anche di Deadpool appunto magari ci sarà anche sotto qualcosa lo scopriremo comunque io ho finito di charlare fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se il trailer vi è piaciuto se la mia analisi vi è piaciuta purtroppo non ho potuto mostrare i pezzetti di trailer dove magari vi mostravo le cose ma ve le ho stilate in ordine quindi basta che ve lo vedete nel caso con le cose che vi ho detto e riuscirete a vedere tutto abbastanza chiaramente insomma sono interessato vedremo vedremo cosa cosa succede fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate vi aspetto su Twitch adesso sono via ma tornerò presto a casa per un sacco di dirette dove possiamo chiacchierare anche ovviamente del trailer di Deadpool e Wolverine mentre aspettiamo l'uscita del film e basta sotto in descrizione trovate un po' di modi per supportare il canale un po' di link tra cui il mio canale Twitch i miei social e altre tante cosine interessanti vi aspetto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate e al prossimo video ciao